sulle ali dell'arte itinerario creativo tra arte e spiritualità di olga serina a mio marito e ai miei figli con immenso amore alla memoria del professor francesco carbone ex docente dell'accademia di belle arti di palermo che ha alimentato la cultura artistica in sicilia con sincero altruismo dedico questo libro che ha visto il vento né voi né io ma quando gli alberi chinano il capo vuol dire che il vento sta passando cristina rosetti stasi paradossale mi trovavo in studio quando guardai l'orologio appeso alla parete ed erano le dieci il lavoro era finito e mancavano ancora tre ore per giungere a casa dai miei cari non so cosa fosse successo guardai l'orologio al mio polso ed erano sempre le dieci che strana coincidenza pensai tutti e due le lancette si erano fermate alle dieci ed entrambe erano rimaste immobili come dovevo regolarmi per andare via dopo aver continuato un lavoro che all'incirca avrebbe richiesto tre ore usci dall'ufficio e appena mi trovai per strada chiesi a un passante l'ora le dieci mi rispose io gridai sbigottita no le dieci erano alcune ore fa osservai quel volto privo di espressione che mi disse vuol dire che l'orologio si è fermato io dissi no il tempo si è fermato non mi rassegnai e andavo fermando tutta la gente che man mano incrociavo che ora è che ora è le dieci mi rispondevano ma sto sognando no no questa è proprio la realtà quindi il tempo si è fermato ma se sono viva e anche gli altri sono vivi come può il tempo fermarsi il tempo non passa più sarà perché non è mai esistito siamo stati noi umani a volerne suddividere le frazioni coi calendari per convenzione per confrontarci con noi stessi e con la dimensione che viviamo ormai le lancette si erano stancate di girare perché avevano girato per troppo tempo ma senza il tempo io mi sentivo di impazzire se non arriva più luna come farò ad andare a casa per pranzo per pranzare e dopo se non saranno più le 16 per andare a passeggio se non saranno le 19 per poter cenare come farò a vivere eternamente questo momento e non ci sarà più la sera e più la notte e poi l'indomani ancora come si farà a vivere preferirei piuttosto morire avevo sempre desiderato che il tempo si fermasse e ora che si era fermato veramente mi sentivo impazzire la terra si era fermata le ombre disegnate dalla luce solare restavano immobili tutto si era fermato astri pianeti non arrivava più la notte e il giorno era sempre il medesimo era un fenomeno che superava le leggi fisiche il più grande fenomeno mai prima di allora accaduto poveri uomini nessuno poteva essere in grado di spiegarsi un evento simile il più grande di tutta l'esistenza ognuno era disperato come un pesce fuor d'acqua si sentiva quasi un essere inutile le sue azioni erano insignificanti perché gli attimi non passavano le ore non passavano i giorni non passavano gli anni non passavano sembra tutto così insezzato e assurdo il tempo si era bloccato e l'uomo non aveva più possibilità di evolversi invecchiare e morire era condannato a vivere sulla terra eternamente il medesimo attimo immutabile in questa strana e assurda condanna il buon dio non si era però dimenticato delle sue creature e mandò sulla terra gli angeli che presero gli aletti portandoli con sé sempre più in alto fino a farli incontrare col padre e gli altri rimasti giù quale destino avrebbero avuto non fu inflitta loro alcuna sofferenza fisica ma continuarono ad aspettare lì senza uno scopo a vivere il momento eterno solo la loro mente poteva muoversi perché libera di pensare ma era un meditare immobile e privo di azioni alcuni riflettendo presero coscienza dei peccati commessi durante il passato e si pentirono così anche loro furono prelevati da altri angeli che li condussero in alto molto in alto per ricongiungersi al creatore e che cosa ne fu degli altri? ebbero ancora un'eternità dinanzi a sé per convertirsi premessa ho sempre avuto il desiderio di realizzare una pubblicazione contenente le mie opere grafiche e pittoriche più significative solo in un secondo tempo ho pensato di arricchire l'opera con alcuni miei scritti il presente volumetto si suddivide in tre parti la prima riguardante racconti e riflessioni la seconda poesie e la terza disegni e dipinti a partire dall'anno 1983 non è mia intenzione ostentare alcuna velletà letteraria e non voglio autodefinirmi scrittrice come si potrebbe fare in un diario fatto di appunti di esperienze vissute in tale forma infatti il libro si presenta al lettore come si può notare quella dei miei scritti traspare spesso il pensiero di dio della sofferenza della morte e dell'immortalità dell'anima la mia dimensione quotidiana è infatti accompagnata da continue riflessioni sull'esistenza in cui il pensiero di dio non mi abbandona mai cerco di vederlo ovunque nell'impegno richiesto dalla cura dei miei bambini nello svolgimento delle faccende quotidiane contemplando le bellezze della natura quando mi dedico alla mia attività artistica e specialmente nel momento in cui cerco di entrare in contatto col mio io più profondo tentando di scrutare la realtà al di là del suo aspetto contingente nella vita mi aiutano preghiera contemplazione, meditazione mi aiuta anche l'arte ammetto tuttavia che la mia fede non è mai abbastanza grande e il desiderio di accrescerla coincide col bisogno di migliorare me stessa l'arte come la possibilità di crescere tramite la ricerca spirituale è un dono datoci da dio che va sviluppato del resto tutte le attitudini umane provengono se siamo credenti da dio sono i cosiddetti talenti e vanno sviluppati con l'esercizio e il sacrificio la consapevolezza di conoscere il proprio limite stimola ad andare sempre avanti infatti qualora un artista si credesse arrivato potrebbe, porrebbe fine ad ogni possibilità di perfezionamento solo chi è costantemente motivato a progredire può toccare traguardi più elevati nel campo spirituale pure se simile l'impresa è ancora più ardua perché il soggetto in causa non è il prodotto dell'individuo ma l'individuo stesso nella sua complessità spesso sogno di volare non solo in cielo anche in luoghi chiusi innalzandomi verso il soffitto in quei momenti provo delle gradevoli emozioni probabilmente il significato psicoanalitico di protendersi verso la direzione verticale oltre al palese desiderio di libertà esprime un certo slancio e un'attrazione verso tutto ciò che è spirituale vorrei dimostrare agli altri che si può volare se si crede nelle proprie possibilità credo che esista un legame non solo metaforico tra le mie esperienze oniriche il loro significato è il titolo sulle ali dell'arte spero che questo breve testo risulti gradevole riesca a suscitare emozioni e perché no a fare un po' riflettere riflessioni spesso mi chiedo il perché delle cose proprio come fanno i bambini che nel fare domande non si stancano mai nei momenti di silenzio mi assale un intenso desiderio di scrivere e mi chiedo cosa mi propongo di comunicare tento di ordinare le idee a tal punto che mi ritrovo in un subbuglio di pensieri così mi rifiuto di scrivere e al più presto si ripresenta in me il momento di ispirazione più il tempo passa più capisco la vita nelle sue sfaccettature più l'amo e più vorrei distaccarmene più scorre il tempo più riesco a cogliere la stranezza della gente ma la giustifico poiché in fondo un po' tutti chi più chi meno presentiamo un sottile strato di pazzia amo la musica ma ancora di più il silenzio perché mi dà la possibilità di crescere interiormente amo la buona compagnia ma a volte scelgo la solitudine perché mi mette a tu per tu con me stessa più cose conosco più scopro limitate le mie conoscenze amo essere spesso in movimento e odio l'ozio e l'apatia percepisco la dimensione del tempo che ci divora inesorabilmente quasi a tradimento ma l'amore per la vita è più forte della paura di ritrovarmi vecchia e poi la morte in sé a pensarci bene non mi fa paura mi intimorisce piuttosto il pensiero della sofferenza l'idea dell'esistenza dell'anima proietta la mia esistenza spirituale all'infinito ciò mi conforta mi rende serena mi fa riguadagnare la gioia dell'immortalità riflessioni spesso mi chiedo il perché delle cose proprio come fanno i bambini che nel fare domande non si stancano mai nei momenti di silenzio mi assale un intenso desiderio di scrivere e mi chiedo cosa mi propongo di comunicare tento di ordinare le idee a tal punto che mi ritrovo in un subbuglio di pensieri così mi rifiuto di scrivere e al più presto si ripresenta in me il momento di ispirazione più il tempo passa più capisco la vita nelle sue sfaccettature più l'amo e più vorrei distaccarmene più scorre il tempo più riesco a cogliere la stranezza della gente ma la giustifico poiché in fondo un po' tutti chi più chi meno presentiamo un sottile strato di pazzia amo la musica ma ancora di più il silenzio perché mi dà la possibilità di crescere interiormente amo la buona compagnia ma a volte scelgo la solitudine perché mi mette a tu per tu con me stessa più cose conosco più scopro limitate le mie conoscenze amo essere spesso in movimento e odio l'ozio e l'apatia percepisco la dimensione del tempo che ci divora inesorabilmente quasi a tradimento ma l'amore per la vita è più forte della paura di ritrovarmi vecchia e poi la morte in sé a pensarci bene non mi fa paura mi intimorisce piuttosto il pensiero della sofferenza l'idea dell'esistenza dell'anima proietta la mia esistenza spirituale all'infinito ciò mi conforta mi rende serena mi fa riguadagnare la gioia dell'immortalità supplica a Gesù misericordioso Gesù fa che i tuoi raggi mi ispirino sempre per portare al mondo la tua luce fa che la tua misericordia sciolga le tenebre le insidie umane le catene che schiavizzano l'uomo a causa dei suoi vizi e della sua stupidità Gesù fa che i tuoi raggi regalino il dono della fede a chi non la possiede fa che illumini il peccatore più incallito affinché prenda consapevolezza del male che ha recato agli altri fa che la tua luce guarisca tutti i mali su questa terra ti supplico irradia col tuo amore il bambino e il vecchio in agonia sciogli la durezza dei cuori e manifestati con tutta la forza e lo splendore a chi non ti ha mai visto e conosciuto fa che tutti dico tutti su questa terra siano colmi del tuo amore per glorificarti in ogni istante della loro esistenza e per comprendere che solo con la tua misericordia il mondo va salvato fa che io non perda mai la fede fino all'ultimo giorno della mia vita per poter dare un senso alla sofferenza e avvicinarmi con tutta la mia anima sempre di più a te fa che la tua luce sia sempre il mio faro che possa dare conforto agli altri fino alla fine e possa portare la tua parola non ti chiedo nulla Gesù nulla che appartenga a questo mondo e che il tempo farà sparire perché pure il ricordo che lascerò su questa terra sarà cancellato ti chiedo con tutta la mia forza Gesù il tuo amore la potenza del tuo spirito che sia impresso nella mia mente e nel mio cuore chiedo di poter intravedere ora il tuo volto e quando sarà il momento di rivelarti a me nella tua pienezza momenti di ispirazione io sono quello che sta al di là della forma non fatevi ingannare dalle apparenze sono il sé delle cose sono la vostra coscienza il vostro io la scintilla divina che dimora in ciascuno di voi il mio scopo sulla terra è quello di aiutarvi a scoprire l'essenza dell'autenticità dell'anima io sono un tramite di Dio sono l'amore in persona guardate i vostri fratelli come figli di Dio abbiate fede sempre di più il Signore non vi deluderà mai pregate Dio in persona ma se volete pregate anche la Madonna i Santi Gesù Cristo quello che sentite maggiormente vicino a voi il Signore non fa differenza di casta di razza di cultura vi ama tutti allo stesso modo perché l'uomo ha origine da Dio e sarà destinato a Dio non abbiate dubbio su questo l'uomo è un misto di animale di angelo e la mia missione è quella di spronarvi ad elevarvi spiritualmente affinché scacciate la natura animale che è dentro di voi i Santi sono stati un esempio per tutti gli uomini dimostrando con le loro azioni e i miracoli se vogliamo di essere divenuti tutt'uno con Dio non dimenticate che anche i Santi sono stati uomini hanno anche peccato ma hanno vinto con la volontà con l'autocontrollo hanno sconfitto il male Satana questa entità reale che lega gli uomini alla terra promettendo loro potenza successo piaceri materiali felicità se però voi seguirete il bene Dio non vi farete attanagliare da questa entità malvagia amate sempre di più il vostro prossimo l'amore spirituale è tutto ciò che è assoluto è vero immutabile è l'emanazione divina l'amore che provate per i vostri figli è un esempio di amore divino che solo il Signore vi ha trasmesso ebbene il suo amore è ancora più grande vivete per Dio fate tutto in funzione di Dio quando contemplate la natura cercate di riuscire ad apprezzare colui che sta al di là di essa l'artefice di tutte le cose la natura trasmette delle belle sensazioni pace interiore ma l'artista del creato vi trasmetterà beatitudine ascoltate le mie parole Dio dimora dentro di voi ma al di là di ogni cosa non può essere circoscritto in una forma ben precisa è illimitato pervade ogni cosa del creato Dio è infinita misericordia puro amore l'apparizione ho avuto parecchia indecisione prima di rendere pubblico ciò che sto per rivelare adesso poiché sono certa che molti dei lettori non prenderanno alla lettera il mio racconto crederanno che io abbia voluto colorire questo testo con un po' di fantasia ebbene posso rassicurare che si tratta di un'esperienza vissuta realmente e credo sia arrivato il momento di rivelarla dopo averla nascosta per lunghi anni non mi pongo il problema di essere creduta o meno ma di rivelare il mio mondo interiore a chi è interessato a conoscerlo l'episodio risale a circa 30 anni fa vivevo con la mia famiglia a Palermo in un appartamento di un condominio di 103 appartamenti situato in una zona semicentrale della città spesso trascorrevo i miei momenti quotidiani in compagnia di due amichetti Pippo e Mirella che abitavano nell'appartamento sullo stesso pienerottolo un bel giorno io e mia sorella ci trovavamo a giocare con i due fratelli nostri coetanei nel balcone della loro casa penso si trattasse delle prime ore pomeridiane mi trovavo in quel momento all'interno della camera un po' appartata quando all'improvviso mi sentì chiamare da mia sorella e dagli altri due con voce concitata ed euforica Olga, Olga vieni a vedere la Madonna guarda c'è la Madonna mi precipitai in balcone e subito alzai gli occhi al cielo verso la direzione in cui estasiati loro tre guardavano vidi davvero la madre divina che la osservai con meraviglia e gioia immensa provai una pace infinita e un senso di felicità non sarà facile riuscire a spiegare ciò che ho provato in quei momenti perché le emozioni di un'esperienza si possono soltanto vivere di persona comunque tenterò semplicemente di descriverla nelle sue sembianze la sua sagoma era di una giovane bellissima signora con lineamenti ed un'espressione dolcissima e suave era come se fosse stata distante da noi circa 50 metri o forse 100 e sembrava circoscritta in un ovale o una specie di finestra poiché presentava i contorni ben definiti non ricordo se la figura fosse intera o mezzo busto ma una cosa è certa aveva il volto leggermente chino ci guardava sorridendo aveva le mani giunte come in preghiera ed era in una direzione quasi frontale rispetto al nostro punto di osservazione sinceramente non ricordo l'incarnato se fosse di colore chiaro oscuro e indossava un velo di un tessuto di colore azzurro chiaro che le copriva il capo e scendeva fino alle spalle l'apparizione durò pochi minuti ma vissi i momenti molto intensamente e quando la figura svanì noi bambini commentammo la nostra toccante esperienza corsi da mia madre con mia sorella per raccontare con entusiasmo ciò che era appena accaduto lei ci ascoltò incuriosita ma non prese alla lettera il nostro racconto che sapeva di favola forse pensò che si trattasse di uno scherzo dimenticai presto quell'episodio anche perché non si verificò mai più e col passare del tempo mi venne un dubbio se si fosse trattato semplicemente di un sogno ma la conferma che si fosse invece trattato di un'esperienza reale lebi da mia sorella stessa quando un giorno già in età adolescenziale mi fece ricordare il dolcissimo straordinario episodio dell'apparizione della Madonna in cielo avremmo avuto tanta voglia di incontrare i nostri amichetti ma purtroppo avevano da parecchio tempo cambiato casa perdendoli di vista si sa perfettamente che all'età dell'infanzia si può confondere la fantasia con la realtà però il fatto di poter testimoniare in due era stato sufficiente per eliminare il dubbio che col tempo mi era sorto e inoltre mia sorella dopo tanti anni ricordava perfettamente che vicino a noi due Pippo e Mirella avevano assistito allo stesso evento dati fatti non poteva trattarsi assolutamente di un'autosuggestione o di un'immaginazione tutt'ora mi chiedo perché proprio io ho vissuto questa meravigliosa e strana esperienza cerco di capire cosa voleva comunicarci la Madonna e perché non si è mai più verificato un simile evento però in certi momenti credo di aver trovato una risposta se ciò è accaduto non è stato affatto per puro caso nulla avviene casualmente Dio voleva comunicarmi il suo amore attraverso l'intercessione della Madonna e sono arrivata a credere che sono insieme a mia sorella e i nostri due amichetti sotto la sua protezione e mi ha fatto capire nello stesso tempo che il Signore ci è sorta alla preghiera ecco perché lei aveva le mani congiunte in preghiera sono grata a Dio per questa grazia che mi ha concesso e ho capito più a fondo il significato di un passo del Vangelo quando afferma che Dio si manifesta ai puri di cuore e ai bambini dopo una simile esperienza come non potrei credere all'apparizione della Madonna di Fatima o di Meggiugori avute dai normalissimi bambini anch'io ero una bambina normale non privilegiata come si potrebbe credere erroneamente penso di essere una persona semplice che ama Dio il fatto accaduto ebbe una conferma di attendibilità in seguito dopo tanto tempo nella piazza di Taormina durante il mese di agosto nell'anno 1994 conobbi una giovane signora Giussi con la quale instaurai un rapporto di amicizia e la cosa che mi colpì maggiormente oltre alla sua affabilità e simpatia fu il fatto di avere scoperto delle cose in comune o delle coincidenze aveva frequentato dieci anni dopo dieci anni prima lo stesso liceo artistico che io avrei frequentato nella mia città Natia Palermo essendo lei più grande di me aveva origine agrigentine come me e la cosa più strana era che prima di sposarsi aveva abitato proprio nel mio stesso quartiere e precisamente in una via parallela alla mia ma non ci eravamo mai incontrate ogni anno in estate ci incontravamo nella stessa piazza e una sera accadde qualcosa di incredibile una parola tira l'altra il caso volle che Giussi mi fece una strana confessione che forse non aveva mai raccontato a nessuno chissà perché in quel momento avvertì l'esigenza di raccontarmi la sua esperienza mi confidò che circa 29-30 anni fa aveva sentito una dolce voce che la chiamava e spingendola ad affacciarsi alla finestra lei si lasciò trascinare da quel richiamo e alzando gli occhi al cielo vide la Madonna la cosa che mi sbalordì è che mentre descriveva dettagli di quell'apparizione nel contesto del luogo in cui la vide mi venne la pelle d'oca e provai un'emozione molto intensa perché ebbi la certezza che si trattasse dello stesso episodio vissuto nello stesso momento e anche se separatamente abitavamo e ci trovavamo in strade vicine parallele anche in senso metaforico a quel punto anch'io le descrissi nei minimi particolari ciò che vidi in quello specifico giorno per avere da lei la conferma che si trattasse della stessa esperienza i suoi occhi sprizzavano gioia per la contentezza di avere condiviso con me lo stesso evento soprannaturale che strana coincidenza ma sapevamo che di questo non si trattava il nostro incontro e la nostra amicizia non erano per nulla casuale come era possibile che i tempi circa 30 anni fa 30 anni prima quando lei aveva circa 14 anni coincidevano il luogo dell'apparizione coincideva le condizioni atmosferiche una bella giornata di sole e i particolari del volto della Santissima Maria che ci guardava sorridendo e le mani giunte coincidevano poi l'incontro verificatosi dopo tanti anni con una persona che incontro per strada che riconferma tutto deduco che non dovrei sottovalutare la mia inconsueta anzi direi unica forte esperienza avuta da bambina bel passo risale a parecchi anni fa il sogno di trovarmi in aperta campagna tra migliaia di persone aspettavamo un evento un prodigio attendevamo tutti con ansia l'apparizione della Madonna dal cielo la luce si fece come polvere d'oro e attoniti guardavamo verso l'alto mi svegliai un po' insoddisfatta poiché nel sogno il miracolo si limitava a una luce irreale e a una atmosfera mistica ma la Madonna non si manifestava ai nostri occhi l'anno successivo mi si ripresentò lo stesso sogno con le stesse emozioni migliaia di persone aspettavano la visione della Madonna sognai la stessa fede che noi tutti alimentavamo ma anche questa volta l'evento si compiva non come io desideravo non si riusciva a vedere la sagoma della Santa Madre e stranamente percepivo le stesse emozioni lo stesso senso di gioia è vuoto la divina madre si era manifestata a noi attraverso i fenomeni naturali di quei momenti ma ciò non mi appagava totalmente dimenticai quel sogno ma ben presto si ripresentò ancora allo stesso modo meditai su quanto mi accadeva sentivo che non si trattava di un semplice sogno ricorrente sentivo che si celava qualcosa di più profondo ancora da scoprire nell'anno 1986 accadde un fatto straordinario si parlava del miracolo di bel passo felice più che mai l'evento spirituale aveva scatenato in me qualcosa di più della semplice curiosità perché una forza incontrollabile mi spingeva ad andare sul luogo partì per recarmi sul posto fiduciosa di andare a testimoniare un'esperienza straordinaria mentre iniziavo a vivere quella giornata sembrava di averla già vissuta pur trovandomi in un posto che non avevo mai visto prima di allora l'aperta campagna era identica a quella sognata anni addietro la miriade di gente sembrava la stessa e il miracolo si presentò simile al sogno in maniera impressionante cercherò di disescrivere ciò che accadde a mezzogiorno il cielo diventò simile a un pulviscolo giallo oro il silenzio assoluto dominò la radura e la gente commossa guardava quasi scioccata il cielo e il sole nelle sue mutazioni vidi attraverso la mia macchina fotografica il sole diventare verde e migliaia di persone testimoniavano ciò che anch'io vedevo un astro di colore verde puro brillante ruotava ad una velocità rapidissima intorno a se stesso ad un tratto vidi staccarsi da quella palla verde come un altro sole e diventare leggermente più piccolo e più basso non ruotava ma era immobile e la sua luce è di un colore bianco puro mi scesero le lacrime gli occhi davanti a una simile visione e sembrava che il tempo fosse giunto al suo termine non un alito di vento non un rumore ma un silenzio assoluto fra migliaia di persone la luce color oro sembrava impregnare tutti noi presenti come se una pioggia colorata ci avesse impregnati di giallo il prodigio durò circa cinque minuti forse dieci e mi ricordai che nei sogni in precedenza avevo gridato guardate il sole e tutti guardavamo volgendo lo sguardo in alto estasiati quando tutto ciò si presentò a bel passo ricordai che la stessa identica scena l'avevo già vissuta in sogno al termine del fenomeno soprannaturale rosario toscano allora diciassettenne leggeva pubblicamente il messaggio comunicato gli dalla madonna dalla signora che appariva solamente a lui e a pochi fortunati e soltanto con lui la madonna instaurava un dialogo vero e proprio tutto ciò si ripeteva ogni primo del mese alle ore dodici e per tanti mesi le parole della beata vergine da lui riportate ribadivano l'invito alla conversione e alla preghiera assidua e l'affermazione che il signore e la nostra madre ci amano ma Gesù viene continuamente crucifisso per via dei peccati mortali e dei misfatti che si compiono sulla terra è chiaro che una persona scettica che non ha mai visto e non si pone neanche nell'ottica di assistere a simili esperienze forse potrebbe obiettare su quanto da me testimoniato ritenendo il fenomeno frutto di suggestione collettiva ma io pongo allora un quesito accettando l'ipotesi che le visioni della madonna che solo in pochi hanno avuto siano frutto della spiccata immaginazione o di allucinazioni chi sarà mai in grado di spiegare tutti gli strani eventi che si sono verificati quale spiegazione dare alle foto scattate in cielo con le macchine fotografiche istantanee tipo polaroid su cui si scorgevano impresse immagini raffiguranti il volto di cristo la figura intera della madonna oppure la madre divina insieme a gesù o una croce con una bara scoperchiata ed altre simili immagini con contenuto sacro se ho avuto il coraggio di scrivere ciò è semplicemente perché sono stata personalmente testimone di questa forte esperienza che ha segnato in maniera positiva la mia vita in seguito si continua a parlare moltissimo di quanto accaduto in sicilia nell'86 ed anche dei miracoli che si verificato si verificarono nell'occasione guarigioni fisiche e spirituali ma il vero miracolo quello più importante è la conversione alla fede di molti increduli ancora adesso se non fosse perché all'epoca mi trovavo insieme a una miriade di persone potrei quasi dubitare di aver avuto l'ennesimo sogno e a questo punto penso a quanto sia strana a volte la vita un prodigio in sogno tanto verosimile da sembrare reale e lo stesso miracolo nella realtà tanto straordinario da sembrare ancora sogno secondo descrizioni rilasciate da altre testimonianze di apparizioni mariane avvenute in molti altri luoghi si sono osservati gli stessi fenomeni soprannaturali dialogo con Gesù una notte durante la contemplazione di un ritratto di Gesù da me stessa realizzato senti la necessità di dialogare con lui sapevo che si trattava solo di un quadro ma in quel momento avrei voluto trovare le risposte era fondamentale trovare la soluzione ai miei tanti perché così cominciai Gesù ispirami la saggezza e la purezza che necessita per aiutare me stessa e gli altri a duemila anni della tua venuta sulla terra per rispondere ai tanti interrogativi della vita ti prego fammi capire perché la religione porta spesso divisioni e guerre quando dovrebbe essere la cosa che accomuna in questo mondo Gesù il mio messaggio è stato spesso travisato nel suo significato più vero comincero a dirti che non tutti sanno che prima della mia venuta sulla terra i miei insegnamenti affondavano le radici nel pensiero filosofico degli antichi greci in particolare di Platone qualcuno pensa che la verità si possa promuovere inventare o rinnovare la verità è sempre stata molti credono che essere religiosi voglia dire imbottirsi di sacramenti di parole luminose o erudirsi con le sacre scritture tutto ciò ha la sua importanza soltanto se si attua una vera e propria rivoluzione in se stessi rappacificandosi con i propri nemici e col proprio prossimo smettendo di far soffrire gli altri per causa propria molti leggono e credono nel Vangelo mentre non considerano un paio di frasi pronunciate da me stesso non giudicare e non sarai giudicato o chi di spada ferisce di spada perisce non guardare la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello ma la trave che incombe dentro il tuo occhio in altri termini il Vangelo è una scuola di umiltà e di saggezza dove c'è poco spazio per il proprio punto di vista l'atteggiamento di molti presuntuosi li illude di conoscere la verità e la loro arroganza è simile a quella dei farisei stesso modo di sentirsi sempre sempre a posto con la coscienza perché formalmente aderenti a certe formule esteriori di comportamento la religione non è una specie di patentino che ci autorizza a farci sentire automaticamente dalla parte della ragione perché Dio sta dalla nostra parte Dio non può essere né un socio né un complice semmai siamo noi che dobbiamo adeguarci fare la sua volontà nel cristiano non si può scindere la religiosità dalla realtà sociale non chi dice signore signore si salva ma chi prima di andare in chiesa va a riconciliarsi con i propri fratelli e sa vedere in ognuno di essi parente strano amico nemico la figura stessa di Cristo molti peccano di presunzione e bigotteria nel volere a ogni costo decifrare Dio con le filosofie e con i ragionamenti a volte proprio quelli più eruditi peccano di superbia presumendo di comprendere meglio di altri il mistero di Dio non mi riferisco soltanto a credenti di religione cristiana ma a tutti i religiosi della terra tanti non sanno che la cultura non coincide necessariamente con la verità intellettuali o filosofi per quanto si possa essere si arriva a possedere la conoscenza della verità solo in modo parziale conoscendo la perfezione nel credo di appartenenza tanti sono convinti di essere nei confronti dei fedeli di altre religioni e più vicini a Dio peccano invece di razzismo religioso Dio non è una storiella da conoscere o da imparare dai libri ma una realtà da vivere da percepire e del resto l'amore che Dio stesso non si può spiegare a parole ma sentirne il profumo disponendosi nell'ottica di chi vuol servire gratuitamente cos'è un miracolo Gesù un miracolo è già la vita stessa l'embrione che si sta formando nel grembo materno è un prodigio del Signore ma il guaio dell'essere umano è che dà tutto per scontato perché occhi e non vede chi si trova nella grazia divina ci si trova nella grazia divina soltanto quando si riesce a guardare con occhi semplici per accostarsi al Signore bisogna guardare al di là delle apparenze oltre il limite che percepisce la logica terrena bisognerebbe purificare la mente il cuore e farsi guidare da entrambi ma non basta amare il prossimo di un amore ordinario ma come io stesso vi ho insegnato si può ascoltare il cuore in maniera eccessiva trascurando la ragione si diventa passionali e preda di facili emozioni queste persone spesso usano malamente i propri sentimenti venendo coinvolti in amori sbagliati o cadendo inconsapevolmente dentro sette religiose e non dalle quali vengono plagiate tu Olga hai un talento e una responsabilità in più hai il dono della sensibilità distingui che non esiste soltanto il bianco e il nero come crede chi è categorico ma una infinità di colori con tutte le loro sfumature non esistono ricette assolute su come pregare in ogni religione è sempre presente il seme buono delle mie parole ogni uomo che nasce sulla terra ha una religione di appartenenza per il mio padre per il padre mio l'unica religione e l'unico modo di professare è l'amore ognuno può vivere il suo mondo spirituale quello dei propri padri purché con cuore sincero ma guai a chi consuma i sfatti in mio nome o di mio padre guai a chi mente in nome del sacro guai a chi viola le regole di dio guai a chi uccide nel mio nome tutte le fedi sono accomunate da uno stesso spirito quello dell'amore dove regna l'amore c'è la verità e dove c'è la verità c'è dio quando il papa parla di conversione bisogna fare molta attenzione a questo termine traviato e abusato da chi non difende il mio messaggio autentico ma il proprio ego e la voglia di prevalere sull'altro questo papa contemporaneo mi è tanto caro per la sua forza bontà e per il suo grande spirito cristiano chiedendo perdono per gli errori della chiesa ha dato una lezione di umiltà redimendo il ruolo della chiesa stessa non più dottoressa infallibile ma umile serva dei disegni di dio cosa intendi di preciso tanta gente interpreta il termine conversione come il convertire alla propria le altre religioni creando così sempre più antagonismo divisioni inimicizia rivalità e incommunicabilità la conversione al cristianesimo e a dio di cui parla il papa vuol dire convertirsi al bene ai giusti valori all'amore fraterno il mio amore cristiano pervade tutte le religioni perché il mio spirito è infinito purtroppo le battaglie religiose esistono ancora spesso le religioni sono usate come alibi per sfogare odio tavico o desiderio di sopraffazione non ci può essere pace senza giustizia ma la giustizia senza la tolleranza l'accoglienza e il perdono non bastano da sola ad evitare le guerre come può esserci pace in chi è consapevole di quanti nel mondo muoiono per fame la vera chiesa di cui ho parlato duemila anni fa è il tempio dell'anima cioè il corpo fisico creato dal padre a sua immagine divina il tabernacolo di cui parlo è il vostro cuore è lì di moro io in ognuno di voi la vera spiritualità supera ogni credo religioso perché si trova nella vostra anima infusa dallo stesso e unico creatore siete stati creati a sua immagine dio si manifesta a voi soltanto se lo cercate dipende dalla misura in cui lo desiderate e lo amate in realtà sono pochi i ricercatori sinceri ti ho dimostrato che sei il sacro che il sacro può essere dall'uomo stesso profanato o semplicemente sminuito e questo è un male ciò che conta fondamentalmente è eliminare tutte le scorie che intaccano nel vostro spirito l'avidità l'invidia la meschinità l'arroganza la superbia la presunzione l'odio la voglia di affermare se stessi a discapito degli altri il desiderio di potere e ricchezza che l'essere umano porta con sé sono i germi negativi che non permettono all'animo umano di crescere e di evolversi facendogli dimenticare che è stato creato per la vita eterna per diventare consapevole della vostra della propria natura divina l'uomo deve prima purificare la propria mente e vivere con distacco ed equanimità Signore Gesù Cristo fai che la volontà di Dio Padre sia la mia cercai di immergermi nello sguardo penetrante dei Suoi occhi da me stessa dipinti ebbi la sensazione di avere una risposta questa è la più alta preghiera che si possa rivolgere a Dio Padre L'addio del nonno ho un buon ricordo di mio nonno lavorava come geometra al genio civile di Agrigento spiccava per la sua onestà e correttezza morì di vecchiaia e trascorse gli ultimi anni della sua vita perdendo un po' alla volta le sue facoltà fisiche e mentali noi familiari per quanto preparati eravamo dispiaciuti per il suo distacco è anche vero che la separazione è sempre un momento molto triste quando mio nonno morì ne fui addolorata ma accettai presto quei tristi momenti con una serenità non comune non solo perché le sue condizioni di salute erano ormai drammatiche ma anche perché ebbi dal nonno la conferma che continuava ad esistere dopo l'abbandono delle sue spoglie mortali ecco ciò che mi è successo avevo circa vent'anni mi ero appena svegliata una mattina d'autunno nella mia casa di palermo prima di alzarmi dal letto mi senti sfiorare la guancia sinistra come se una mano fredda mi accarezzasse il viso rimasi sconvolta e perplessa subito pensai di informare mia sorella che si era anche lei appena svegliata e si trovava nel suo letto addossato alla parete opposta della nostra cameretta fu lei che con voce stupita mi precedette dicendomi Olga sai cosa mi è successo in questo momento ho avuto l'impressione che qualcuno mi accarezzasse il viso esca da mai anch'io allora non è stata la mia immaginazione com'è possibile se non c'è nessuno cosa è successo dopo un po' pensai al nonno e le dissi sento che il nonno è morto è morto e sarà venuto a salutarci provai un'intensa emozione e mi venne la pelle d'oca passarono solo pochi minuti e squillò il telefono per darci la notizia che il nonno era aspirato pianzi ma immediatamente provai un grande conforto per l'addio che lui ci aveva dato accarezzandoci la guancia ebbe il segno che il nonno passava da un'esistenza ad un'altra infatti così come credo fermamente la morte non è altro che un passaggio da una vita all'altra l'episodio si collegò a un secondo ancora misterioso tre giorni dopo si verificò qualcosa fuori dall'ordinario mi apprestavo ad apparecchiare la tavola in cucina insieme a me c'era mia sorella e mia madre ad un tratto ebbi l'ispirazione di allontanarmi per alcuni secondi dalla cucina come se qualcuno mi suggerisse spostati esci da lì e vai in un'altra stanza così mi diressi in camera da letto e mi guardai allo specchio senza un motivo nello stesso istante mia sorella si allontanò e mia madre si recò in bagno meccanicamente senza alcun motivo in quell'istante si sentì un forte boato come un'esplosione entrata in cucina era successo qualcosa di spiacevole dall'alto della parete era caduta una grande mensola con sopra alcune decine di bottiglie piene di vini e liquori frantumandosi mille pezzi sono certa che noi tre siamo state protette da una mano divina o da un angelo custode ma tuttora credo che l'intervento sia stato proprio di mio nonno passato nel mondo degli spiriti in realtà in quell'istante io mia madre e mia sorella ci siamo allontanate dalla cucina inspiegabilmente evitando così il peggio scherzi della miseria esiste un luogo comune secondo il quale la povera gente debba per forza o quasi sempre risultare di animo buono e semplice in tanti casi sarà anche vero ma ogni tanto questa teoria non regge e dalla povertà materiale scaturisce anche una carenza a livello spirituale ma non bisogna essere troppo severi nel giudicare perché la povertà di spirito è già uno svantaggio grave sufficiente a giustificare le vicissitudini dei personaggi che mi appresto a raccontare la storia di miseria inizia molti anni fa quando una giovane contadina del centro Italia molto povera ma altrettanto calcolatrice si unisce in matrimonio con un invalido di guerra nonché ritardato mentale non certo per amore ma per appropriarsi della pensione di cui il poveretto era titolare da qui ha inizio una storia angusta fatta di continue umiliazioni a carico di questo malcapitato usato come una cosa e bistrattato un uomo dallo sguardo innocente l'unico spirito puro di tutta la famiglia da quest'unione nascono due figli che subiscono sin dalla nascita una sorta di plagio da parte di una madre dispotica e totalitaria lavoratrice sì ma anche accentratrice e che è sempre pronta a darsi merito per la propria furbizia nell'affrontare la vita in gamba soprattutto per aver sposato un handicappato a cui spillare la pensione a vita con sacrifici estenti questa donna riesce a dare ai propri figli una decorosa sistemazione in particolare al maggiore sposato edifica la casa di abitazione attaccata alla propria ma essendo furba non fa risultare da nessun atto notarile che la casa è di proprietà del figlio perché per far risultare il figlio nullatenente e perciò avente diritto ad una casa popolare qui comincia la storia bizzarra di tutte le peripezie vissute dal figlio e dalla rispettiva famiglia avuta la casa popolare nei primi tempi il figlio non si premura di trasferirsi nella nuova abitazione avendo già arredato la prima casa trovandosi bene vicino alla madre quando dopo alcuni mesi gli giunge voce che rischia di perdere il diritto alla casa assegnatagli che non la occupa almeno la notte per dormirci messo alle strette inizia a fare la spola con tutta la famiglia da una casa all'altra mattina e sera d'estate come d'inverno da una parte all'altra del paese uno stress veramente difficile da sostenere moglie e marito cominciano ad avere delle manie persecutorie credono di essere malvoluti e invidiati dai vicini della casa popolare assegnata loro ingiustamente sentono degli strani rumori la notte testimoniano dei fenomeni strani accaduti a cose a persone in quella casa ma sono anche molto superstiziosi al punto di credersi vittime di qualche fattura o malocchio decidono perciò di andare da una maga o fattucchiera per farsi liberare da questa maledizione la madre ritenendosi anche lei un po' artefice un po' complice dell'accaduto si associa al figlio tutti insieme vanno a consultare questa magera unico risultato saliente di questa consultazione una spesa pro capite di lire 250.000 10 anni fa la diagnosi della maga era malocchio sicuro ma loro dopo l'esborso di tanti soldi non intendevano mollarne altri per completare il lavoro e scelsero di tenersi il malocchio ma non solo continuarono la spola tra queste due case da pulire e da ordinare per paura di perderne una condannati così a non avere più pace per tutto il tempo che avrebbero avuto ancora da vivere santità a offerta libera sbirciavo come non faccio mai di solito su una di quelle riviste di cronaca quella categoria di settimanali che spesso abbondano nelle salette di attesa di parrucchiera per signora insomma quella specie di internet dell'editoria della cronaca assortita dove puoi trovare di tutto dall'ultimo omicidio passionale alla vita di padre Pio a puntate credo che menzionare la testata di questo settimanale sia ormai pressoché superfluo e di averne già lasciato intuire abbondantemente il nome l'articolo testimonianza faceva già un po' pensare a una montatura ma la curiosità di andare a conoscere l'ultima santa della cronaca era più forte di me sul settimanale si parlava di una signora che in un luogo veramente insolito in una pizzeria aveva avuto un'apparizione della madonna che a sua volta le aveva secondo la sua dichiarazione conferito poteri di guarigione per aiutare chi soffre la storia di per sé puzzava un tantino anche perché sempre dall'articolo si specificava che la signora pur non chiedendo soldi accettava comunque delle libere offerte non nascondo una parte della mia eccessiva buona fede infatti il primo acchitto di primo acchitto credetti che magari la santa usasse le offerte per beneficenza o per qualche altra operapia perciò superato questo punto ancora poco chiaro diedi sfogo alla mia forte curiosità e decisi di andarla a trovare anche perché la località da raggiungere non era molto lontano da casa mia col pretesto di avere qualche disturbo di salute un giorno le telefonai per fissare un appuntamento il mio vero scopo era quello di capire quale tipo di persona si celasse dietro questa cosiddetta santa raggiunsi da località e chiedendo informazioni sulla via che restava un po' internata giunsi infine in questa villetta apposta su due livelli in un quartiere piuttosto modesto il cortile ancora in terra battuta mi fece accomodare nel piccolo soggiorno riceveva nella cameretta attigua e la porta comunicante era semisocchiusa senza quasi volerlo mi trovai a dover ascoltare il dialogo con una donna giunta prima di me guardandomi intorno tutto quello che si scorgeva all'interno di questa di quell'abitazione era di pessimo gusto una cozzaglia di oggetti di varia specie e natura affollava pareti mobili e ripiani quasi da non lasciare nessuno spazio vuoto la sensazione che si ricavava da questo contesto era di invadenza e confusione qua e là giusto per non deludere le aspettative dei visitatori si scorgeva qualche immaginetta sacra semi sommersa da tutta quell'altra roba mentre osservavo sentivo il tono e il modo di parlare della signora dai misteriosi poteri che aveva poco della santa e tanto dell'imbonitrice l'accento la cadenza sapeva di meccanico di precostruito di falso al punto che fui pervasa da un senso di rigetto e sentì forte il desiderio di scappare ma il mio eccesso di zelo forse mi trattenne fino a quando lei congedò la sua cliente con le parole torni la prossima settimana sapevo di non avere molto da scoprire giunto a quel punto ma forse per un eccesso di lealtà mi vogli sottoporre a quel confronto come per darle ancora una possibilità di farmi cambiare opinione dopo avermi chiesto da quali disturbi fossi affetta chiudendo gli occhi iniziò a mimare una comunicazione indiretta come se fosse al telefono e all'altro capo ci fosse una volta Dio una volta la Madonna una volta Gesù la comunicazione però di tanto in tanto sembrava subisse delle interferenze quando stava per intavolare il dialogo con le entità specifiche si interrompeva dando come spiegazione l'intromissione di spiritelli burloni o malefici che si opponevano alla soluzione immediata del problema in certi momenti confesso la situazione assumeva sfaccettature marcatamente comiche esilaranti al punto che dovevo porre una forza non indifferente per non sbottare in risate a crepapelle mentre biascicava freneticamente frasi il più delle volte mancanti di senso compiuto probabilmente per darsi un tono di mistero riusciva poi con mio ulteriore sgomento anche ad occuparsi del nipotino di pochi anni che nel frattempo gironsolava per casa e di volta in volta le chiedeva qualcosa lei interrompeva il filo del discorso gli dava retta e dopo come se nulla fosse riprendeva il suo biascicare automatico quasi nel punto dove si era interrotta a un certo punto non ce l'ho fatta più a reggere a questa sceneggiata che offendeva sia il cielo che la mia intelligenza e così decisi di svignarmela senza neanche salutarla con la scusa di dover andare in bagno con quattro passi guadagnai l'uscio già aperto e giunsi in macchina esplodendo in una risata liberatoria guru a offerta libera ogni riferimento a fatti o persone reali in questo racconto è da ritenersi puramente casuale l'uomo moderno liberato dalla schiavitù delle dittature dal rischio di carestie dalla piaga dell'analfabetismo della miseria a prima vista si direbbe che sia realmente libero ma non è proprio così se andiamo un po' ad approfondire come realmente gestisca tutta questa libertà in questo mondo moderno dove dietro a ogni angolo si nascondono insidie ben celate capace ancora oggi di renderlo schiavo e vittima un tempo ad esempio non si distingueva la differenza tra misticismo e religione perché quest'ultima si assumeva il compito di gestire in maniera univoca ogni tipo di bisogno spirituale degli esseri umani prendiamo ad esempio la religione cattolica o si era cristiani cattolici o si era eretici con tutte le conseguenze del caso non è comunque mia intenzione assumere atteggiamenti troppo critici nei confronti della chiesa cattolica verso la quale nutro tutto il rispetto in quanto battezzata anche perché quella a cui mi sono riferita prima è storia di altri tempi e il paragone è usato come termine di confronto tra quello di altri tempi e quello che può essere ai nostri giorni il modo di incanalare la propria spiritualità l'esperienza che mi accingo a raccontare spero possa servire a quanti in buona fede motivati da obiettivi di natura psicofisica come chi frequenta una palestra o una piscina si imbattono invece senza volerlo i strane congreghe aventi caratteristiche di setta è la storia di una mia cara amica Fatima da che la conosco particolarmente interessata verso le culture orientali attirata perciò dallo yoga disciplina psicofisica e spirituale che affonda le sue radici 5.000 anni fa in India in passato sempre tramandata oralmente lo yoga non si presenta esattamente come una religione né tantomeno è vincolante nei riguardi di alcuna almeno in teoria lascia libero al praticante di restare fedele al proprio credo di origine si distingue in due livelli l'ata e il kriya il primo è psicofisico mentre il secondo è trascendentale e meditativo corsi di yoga spesso vengono istituiti privatamente dai comuni dai centri culturali e persino molti medici occidentali ne riconoscono il beneficio per la salute del corpo e della mente esistono inoltre tanti libri inerenti all'argomento fatima dopo essersi iscritta ad una scuola di yoga un po' alla volta si accorse frequentando l'ambiente di scoprire atteggiamenti sempre più equivocabili in quanto oltre alla semplice disciplina yoga si lasciava filtrare nella coscienza dei praticanti prima della lezione di kriya quella che viene definita divinizzazione di un essere umano venivano letti dei testi mistici orientali dove si parlava di guru o esseri realizzati nel passato tramite lo yoga giunti perciò alla sommità della scala spirituale secondo la suddetta filosofia parallelamente alle figure illustri del passato veniva trasposta una figura attuale di guru in carne ed ossa che era guarda caso il direttore della stessa scuola residente però in un'altra provincia al quale di volta in volta venivano attribuite virtù e facoltà spirituali di ogni sorta e grado l'abito del guru sempre a detta della mia amica campeggiava la parete di fronte all'ingresso di sotto un mazzo di fiori depositi depositi freschi tutti i giorni i praticanti passando davanti al feticcio si inchinavano in seguito in segno di venerazione ma il guru era altrove in una villa da sogno nei pressi di nel posteggio dei clienti automobili di classe superiore cosa farà mai il signor guru uno nessuno e centomila direbbe pirandello ma anche in senso economico infatti per il pubblico estraneo allo yoga era un pranoterapeuta offerta libera mentre per gli altri iscritti alla scuola era la personificazione divina roba dell'altro mondo una donna dall'aspetto elegante forse la moglie regolava il flusso dei clienti solo uno per volta rispondeva al telefono prendendo gli innumerevoli appuntamenti con disinvoltura lasciava scivolare sul tavolino un po' di buste tipo postali vuote per ritirarle dopo un po' che la gente di volta in volta le imbottiva con libere offerte dai fatti già citati dalla cronaca siamo un po' tutti al corrente dei modi e degli espedienti usati dai vari sedicenti guru presenti in ogni parte del mondo per affermare il loro prestigio alla faccia della buona fede dei rispettivi o fedelissimi seguaci Fatima capì in poco tempo che era caduta in una vera e propria setta riconducibile agli archeosofi la maestra di yoga tramando d'arte raccomandava agli scritti di non parlare al di fuori di quell'ambito degli straordinari poteri del guru che non concedeva mai interviste giornalistiche o televisive per rimanere un segreto a circuito chiuso riservato agli scritti della scuola andava dicendo che Dio aveva dato solo a loro la fortuna e la grazia di conoscere un autentico guru in carne ed ossa il quale li avrebbe seguiti per il resto della loro vita sempre a condizione che fossero rimasti fedeli a lui li avrebbe accompagnati verso l'illuminazione aspirata da tutti gli oggi asseriva inoltre che tutte le altre scuole esistenti altrove fossero tutte poco attendibili e per così dire all'acqua di rose mentre solo la loro godeva di un prestigio non comune proprio per la presenza di questo mezzo mago e mezzo santone che prometteva mari e monti a tutti i suoi devoti dal successo nel lavoro alla salute alla beatitudine celeste quando qualcuno affidatosi a lui avvertiva un beneficio fisico o per fortuna proprio o per caso egli si prendeva i meriti ma qualora la cosa non fosse andata per il meglio c'era la risposta pronta per chiunque il karma negativo impedisce la soluzione dei problemi nella filosofia orientale si crede infatti che chi pecca in una vita espia le colpe commesse reincarnandosi nella vita successiva insomma il guru aveva sempre la ragione dalla sua parte e nessuno poteva mai dubitare era considerato dai suoi seguaci onnisciente nel vero senso della parola chi non avesse riposto piena fiducia in lui sarebbe stato considerato infedele a dio fatima mi ha confidato inoltre che aveva espresso le sue opinioni a proposito dell'onniscienza del maestro confessando i suoi dubbi ad una depta molto convinta peccando sicuramente di ingenuità non tardò ad arrivare una telefonata era la maestra della scuola con tono alterato intimava il divieto di diffondere certe notizie e certe insinuazioni sul conto del guru minacciando che in tal caso il maestro si sarebbe difeso con querela per diffamazione a quel punto fatima tenta di parlare con l'interessato telefonicamente per chiarire su un piano umano la faccenda ma lui stando sulle difensive si chiude a riccio e non concede nessun contatto telefonico amareggiata insoddisfatta ma per niente intimidita dalle minacce si sfoga infine con una lettera indirizzata alla persona in causa la missiva evidenziava a un certo punto l'aspetto paradossale nonché comico della faccenda dove diceva se proprio sono passibile di querela vorrei sapere dove esisterà mai quell'avvocato che tutela l'inconfutabilità dell'onniscienza del proprio cliente fatima non esitò a dissociarsi immediatamente da quella tanto discutibile scuola di yoga purtroppo tante altre vittime rimangono ancora coinvolte magistralmente plagiate perché resi incapaci di pensare col proprio cervello dissuasi senza accorgersi a confrontarsi col mondo esterno forse per paura di dover aprire gli occhi non sapendo più a quale sicurezza aggrapparsi la mia amica ha scoperto dentro quell'ambiente un fanatismo viscerale un'organizzazione perversa dove ogni devoto darebbe la propria vita per un simulatore che grazie alla propria intelligenza adoperata per suggestionare con lo sguardo servendosi di una discreta conoscenza delle culture orientali riesce a tenere in pugno persone culturalmente anche più in gamba di lui ma psichicamente più deboli rendendole perciò psicologicamente dipendenti da lui dopo essersi completamente distaccata da questa pessima congrega ha persino appreso da fonti esterne l'innumore innumerevole numero di denunce già a caico di questo simulatore che sicuramente si muove ai limiti della legalità spacciandosi di volta in volta benefattore pranoterapeuta guru sfuggendo abilmente tra le maglie della legge come un astuto serpente anche perché coi soldi che possiede avrà più avvocati che camerieri per i suoi detti lui è il nuovo Cristo loro lo venerano ignari di trovarsi di fronte a un falso profeta dei tempi moderni un imbroglione che parla di un dio in cui probabilmente non crede e crede in un dio di cui non parla il dio denaro è pur vero che nella vita bisogna essere cauti e diffidenti e non è sempre oro tutto quello che luccica il caso narrato non è né un chiaro esempio la storia non è comunque finita tutto si ripete non posso fare a meno di raccontarvi un altro episodio associabile a quello appena citato trascorso circa un anno dal verificatisi di questo avvenimento una coppia di miei amici siciliani residenti a Roma decide di venirci a trovare non ci si vedeva da parecchi anni Armando piuttosto giovane mi confida riportandomi una sua recente esperienza che anche lui ha trovato il suo guru in una città del Lazio diventato da subito la persona più importante della sua vita notai il suo sguardo che si illuminava solo a parlarne il suo racconto durò parecchio ma io mi trattenni di raccontargli la storia vissuta da quella mia amica e per paura di svegliarlo bruscamente o ferirlo avrei voluto raccontargli tutto ma non lo sai vedendolo così coinvolto per paura di metterlo in crisi la sua esperienza aveva tante anzi troppe cose in comune con quanto narrato prima sai Olga prima sono stato agnostico come tu sai e da quando ci conosciamo sono stato sempre affetto da forti cefalè che i medici non sono stati mai in grado di curare un bel giorno per mia fortuna un amico per caso mi parlò di questa persona che aveva un carisma di guarigione e per far l'ennesimo dei molti tentativi decisi di affidarmi a lui non avevo la minima intenzione di addentrarmi nella materia spirituale ma il magnetismo di quella persona mi ha coinvolto e trascinato in un campo che per me era stato sempre tabù è stato lui ad avviarmi nella via della meditazione presso una scuola da lui da lui diretta da quel momento è entrato nel mio cuore e credo grazie a lui di aver scoperto anche Dio vado spesso a trovarlo e con lui mi sento sicuro sereno felice il mio primo incontro con lui è stato indimenticabile mi ha subito abbracciato e mi ha detto bentornato io ti conoscevo prima ancora che tu venissi da me e tante altre belle frasi che mi hanno colpito il nostro incontro non è stato casuale sarai legato a me per tutto il tuo viaggio in questa vita sappi che tu sei un'anima pura e non avrai più bisogno di reincarnarti in questo mondo la vita ti sta riservando delle cose straordinarie adesso che hai incontrato me tutti i tuoi desideri si potranno avverare dopo avergli comunicato il mio problema di salute il guru mi disse al più presto ti guarirò dalla tua migrania ti assicuro dopo avermi chiesto che lavoro facevo mi chiese cosa mi piacesse fare nella vita risposi fare teatro a quel punto lui mi disse diventerai un noto attore interrompendo a un certo punto il suo racconto gli chiesi parlami un po' di costui del posto dove opera e di altri particolari abita in una villa d'epoca ristrutturata con un parco circostante e di alta statura carnagione scura capelli lunghi barba lunga i suoi occhi quando guardano ti fanno sentire scoperto davanti a lui si ha la sensazione di non riuscire a mentire è il maestro di karate si alimenta con la dieta macrobiotica pur non obbligando nessuno a seguirla la prima volta che andai a trovarlo fui accolto in una sala dall'atmosfera direi misteriosa tappeti cuscini decori alle pareti un ritratto di gesù insieme a quelli di diversi guru indiani di fronte all'ingresso principale una statua del buddha a modurna per raccogliere le libere offerte posta sopra un capitello di marmo a fianco della porta comunicante col locale dove lui riceve il guru però non chiede soldi a nessuno in un angolo della parete si trova un piccolo scaffale dal quale quelli che sono in attesa possono sfogliare libri di argomento spirituale di volta in volta un ragazzo tibetano che parla bene l'italiano gira tra i presenti e domanda chi desidera un tè per due mesi all'anno il guru con moglie e figli si assente dalla sua sede e va in tibet dove si dice che abbia altri discepoli da seguire ti confido adesso un segreto una cosa straordinaria presso il mio gruppo si dà per sicuro che lui sia la reincarnazione di un guru indiano morto nel mese del 1952 esattamente sei anni prima della sua nascita non è fantastico ascoltai tutta la storia di Armando senza contraddirlo per non dover entrare in contrasto con le sue convinzioni mi è dispiaciuto non poterlo al momento aiutare per paura di far crollare il suo alquanto fragile equilibrio psichico spero solo che un giorno gli arrivi la giusta illuminazione molte cose del suo racconto mi avevano lasciato perplessa la più lampante era la reincarnazione dopo appena sei anni impossibile secondo le filosofie orientali che ne prevedono almeno cento ancora oggi la cefalea del mio amico persiste spero che il mio amico col tempo capisca da solo o comunque abbia modo di credersi leggendo questo racconto a proposito di queste argomentazioni inerenti allo yoga penso sia giusto chiarire alcuni concetti per evitare che lo sproveduto abbia idee confuse esiste come si è visto chi specula col pretesto dello yoga ciò non significa che lo yoga in sé si possa definire negativo d'altra parte se esiste la moneta falsa esisterà la corrispettiva autentica e chiunque intraprende una qualsiasi via spirituale non deve fidarsi ciecamente del primo che incontra dando solo retta all'istinto e senza esercitare una buona dose di di senso critico la cosa più lampante è che santità e lucro non camminano mai insieme in materia di santità la prova più identica è quella del tempo infatti si dice il tempo è giudice e dà ragione solo a quei fenomeni autentici non frutto di suggestioni o di gonfiature pubblicitarie nel caso di un grande artista passato alla storia non servono recensioni o critiche bastano le opere immortali e perenni che ha lasciato lungo la sua esistenza e testimonianza della sua grandezza un artista è gonfiato dei tempi moderni il cui prodotto è obiettivamente scadente portato alla gloria da critici mercenari potrà godere al massimo di un po' di fama ma solo per un breve periodo quello della sua esistenza dopodiché non si parlerà più di lui con grande delusione di chi credendo alle promesse dei mercanti d'arte aveva investito fior di quattrini sperando che dopo la morte dell'autore fama e quotazioni sarebbero cresciute e invece nulla di tutto ciò chi non è realmente grande può bleffare solo per poco tempo dopo tutto crolla come un castello di sabbia in campo mistico quelli che con molta umiltà obiettivamente dimostrano grandezza superano la prova del tempo e la testimonianza che lasciano nell'arco della loro esistenza si tramanda come prova indelebile e inconfutabile della loro autenticità può capitare a taluni che a un certo punto della propria vita avvertono l'esigenza di accostarsi alle pratiche dello yoga per rigenerare il proprio spirito appesantito dalle mille fatiche del vivere moderno che obbliga a correre sempre e far diventare tutti un po' ansiosi dove non si trova il tempo per fermarsi un attimo e guardare dentro di sé sentire il proprio respiro cercare di prendere consapevolezza della propria essenza credo che conoscere se stessi e armonizzare corpo e spirito servendosi della suddetta disciplina senza però imbattersi in strane avventure sia tutto sommato un'esperienza costruttiva e affascinante a cena coi miliardari una sera d'estate in piazza a Tavolmina durante l'esercizio dell'attività di ritrattista insieme a mio marito si presenta davanti a noi una coppia distinta e carina lui invita lei a posare per un ritratto e nel frattempo racconta di essere pure lui un meridionale trapiantato al nord e di essere titolare di una casa editrice specializzata in pubblicazioni d'arte nonché di una rivista dalle inserzioni gratuite manifesta il desiderio di stringere amicizia con noi pregandoci di andarla a trovare dopo le vacanze presso la sua sede di lavoro in provincia di Milano dopo un po' di tempo lo andammo a incontrare la sua sede era una nuovissima palazzina su diversi livelli si presentava come un centro introdirezionale di tutto rispetto ci accolse calorosamente nel suo studio e dopo un caffè ci spiegò di occuparsi anche di edilizia mostrandoci qualche progettino di villa di lusso ci raccontò della sua passione per il pilotaggio di piccoli aerei e dell'ultimo regalino che si era appena concesso un aereo da passeggio da 240 milioni di lire per lo svago domenicale il quadro abbastanza completo avevamo a che fare con un miliardario ci confessò senza preamboli la sua straordinaria capacità di raggranellare soldi tanti soldi con tutti i mezzi possibili senza troppi scrupoli tirò fuori anche l'esempio dell'imperatore romano vespasiano passato alla storia e a suo tempo nonché criticato per aver istituito i bagni pubblici a pagamento quando fu mossa verso di lui la critica di speculare attraverso qualcosa di maleodorante quali sicuramente dovevano essere i servizi pubblici dell'epoca lui si difese con la famosa frase latina pecunia no olet il denaro non ha odore una specie di macchiavellico il fine giustifica i mezzi per quanto votato i soldi tra le sfaccettature della sua personalità dava a capire di avere una certa propensione per l'arte raccontava infatti di scrivere poesie ci mostrò un opuscolo d'arte pubblicato dalla sua casa editrice sul quale una pubblicazione costava un po' di anni fa 6 milioni di lire per fortuna mio marito non accettammo l'offerta non proprio vantaggiosa non abbiamo comunque rifiutato l'invito a casa sua ci incuriosiva troppo la sagoma umana che il caso ci aveva dato la possibilità di incontrare e conoscere si notava in lui come una doppia identità da un canto cercava di far trasparire il suo tenore di vita non comune vedi l'aereo personale l'amico residente a Monte Carlo che andava a trovarlo atterrando con l'elicottero sul prato della sua villa la Porsche che di tanto in tanto faceva guidare ad amici meno abbienti per fargli togliere lo sfizio da un altro lato sembrava o voleva far sembrare che tutto questo lusso quasi lo imbarazzasse e lo lasciasse pressoché indifferente mentre tornava a parlare di cose semplici per non metterci soggezione dandoci l'impressione di voler stare malgrado la sua ricchezza al nostro livello un miliardario che per noi si faceva piccolo piccolo e molto alla mano l'appuntamento fu fissato in una serata autunnale non tanto fredda in una zona residenziale molto rinomata fummo accolti dalla sua convivente perché lui si sarebbe trattenuto sul lavoro un po' oltre il solito orario dopo qualche mezz'ora arrivò e ci informò che di lì a poco sarebbero arrivati altri suoi due amici con le rispettive partner infatti non tardarono molto ad arrivare osservandoli risaltava il loro look molto ricercato la gestualità molto disinvolta dal loro sguardo traspariva chiaro l'animo di zio Paperone le donne vestivano rigorosamente di nero sembravano delle ostesse un po' attempate gli uomini in abbigliamento sportivo a bronzatura fuori stagione brillantina ma l'espressione che gli si leggeva in faccia era quella di maschere così irreali da sembrare quasi finti sul mobiletto era in evidenza un libro col nome cubitale di uno di questi amici all'interno una recensione lunga resigocolata intorno all'informale lirico di questo sedicente artista con tutto rispetto per i pittori informali talmente gonfiata di parole prosaiche da scoraggiarne la completa lettura per il resto il libro illustrava una serie di opere dal motivo ripetitivo e talmente stupido da provocare una sensazione quasi irritante in chi si fosse cimentato solo a sbirciare vedendo questo volume pensavo tra me e me su come sia facile per chi ha tanti soldi da spendere poter apparire come un grande artista agli occhi dei profani infatti la coda di paglia del sedicente artista si manifestò subito appena dopo le presentazioni perché lui stesso si premurò di non accennare minimamente il suo talento e di togliere dalla circolazione il libro mentitore dopo le presentazioni cominciò la cena mentre noi studiavamo loro l'identica cosa facevano essi nei nostri confronti ci rendemmo subito conto del loro intento di primeggiare esibendosi nei nostri confronti mettendosi a parlare tra di loro di vacanze superlative in località fuori dall'ordinario per la verità noi all'inizio ci sentivamo un po' tagliati fuori ma li lasciamo fare di tanto in tanto però il loro dialogo scadeva nel volgare tutte le volte che qualcuno si rivolgeva all'altro usando allocuzioni di sicuro poco garbate come str fu a quel punto che con tono tra il serio e l'ironico li richiamai un po' al buonsenso così come si fa con i bambini maleducati fingendomi indignata con parole che suonavano all'incirca così ma vi sembra giusto scambiarvi questa sorta di complimenti la mia freccetina ebbe una grande efficacia accogliendoli di sorpresa e facendoli sicuramente riflettere dovettero perlomeno ammettere di trovarsi di fronte a gente con un po' di carattere abbastanza da permettersi di fargli qualche sorta di rimprovero da quel momento si è rotto il ghiaccio loro si sono ridimensionati un po' e il gioco è andato in mano a noi ci facevano delle domande delle domande perché se non altro li avevamo molto interessati li abbiamo tenuti impegnati piacevolmente per tutto il resto della serata raccontando normalissime barzellette quelle che la gran parte della gente conosce ma che per loro erano tabù ci ascoltavano con autentico divertimento e dopo aver udito in perfetto silenzio alcune nostre canzoni accompagnate alla buona con la chitarra verso la fine dell'esibizione il padrone di casa espresse il suo compiacimento e terminò con questa frase eppure devo ammettere che noi in confronto a loro siamo proprio delle bestie cogliamo quella frase come un complimento non capimmo ma capimmo pure che con la nostra semplicità avevamo fatto cadere anche se per un solo attimo quelle maschere rendendoci conto di quanto poveri fossero quei ricchi che avevamo di fronte che fino a quel momento sicuramente avevano sempre dato importanza al loro denaro credendo che tutto fosse accessibile sempre e solo col denaro mentre noi in quell'istante rappresentavamo la dimostrazione evidente del contrario viaggio astrale esiste una teoria secondo la quale il nostro vero sé quello interiore è fatto di pura coscienza racchiuso a sua volta in tre corpi quello fisico che è il corpo nel senso comune del termine il corpo sottile astrale e il corpo causale o ideale in cui risiede l'anima vera e propria il corpo fisico agisce durante lo stato di veglia quando viviamo nel mondo materiale il mondo astrale agisce durante il sogno o il pensiero respirato registrando un insieme di impressioni acquisite mediante la mente e i sensi il corpo causale similmente al precedente agisce nello stato di sonno profondo e nella meditazione profonda è sostenuto dagli elementi causali quali sono i pensieri ed è gestito dalla coscienza profonda il vero sé l'essenza immortale o per intenderci l'anima trascende tutti e tre i corpi e gli stati di coscienza nell'istante in cui si cessa di vivere fisicamente si abbandona definitivamente il corpo materico ma si acquisisce la consapevolezza degli altri due corpi la vita per quanto ci riguarda presenta diversi livelli di esistenza o per meglio dire di coscienza forse soltanto ai sensitivi è possibile staccarsi quando vogliono dal proprio corpo per esplorare nuove dimensioni o per aiutare altre anime mentre per la gente comune me compresa questi tipi di esperienze extracorpore sono eccezionali e il più delle volte come nel caso che vorrei citare involontarie durante lo stato di coma in taluni casi vengono registrate esperienze simili non voglio usare questa sede per convincere nessuno ad accettare la teoria sopra enunciata che è come dire comprovata dall'esperienza che sto per narrare non esistono e non è mia intenzione individuarle certezze assolute in questa materia tali da stabilire nel campo specifico l'esatto confine esistente tra immaginazione e realtà il mio intento è quello di comunicare emozioni positive senza preoccuparmi troppo della veridicità del contenuto una notte durante il sonno mi capitò di fare quello che comunemente è definito un viaggio astrale si è trattato di un'esperienza forte e intensa rimastami molto impressa e che senz'altro è servita ad arricchirmi interiormente ero un fascio di luce color bianco puro un piccolo ammasso di energia che correva ad una velocità incredibile e andavo percorrendo attraverso salite e discese luoghi sconosciuti mai visti prima ricordo che il paesaggio era assai vario mi sentivo come coinvolta in un contesto pieno di amore scosmico un amore molto forte che mi infondeva un senso di infinita pace e interiore pura felicità c'era tanta luce come non esiste in natura percorrevo vallate innevate circondate da maestosi alberi di colore verde brillante il cielo e la natura avevano quasi un'aria fiabesca irreale tutto intorno a me era pervaso da una luce di cui non si percepiva la fonte la varietà e la bellezza dei colori non era paragonabile a quella a cui siamo tutti abituati sono convinta di aver attraversato una dimensione appartenente al mondo astrale un luogo in cui bellezze indescrivibili incantavano i miei occhi e il senso di felicità era grande ricordo che avvertiva a un certo punto di scivolare dentro un tunnel di luce abbagliante riuscendo di volta in volta a staccarmi dal mio stesso punto d'osservazione dal mio io emozionale potevo così osservarmi dall'esterno come se il mio corpo mentale uscisse fuori da me stessa potevo infatti individuarmi sotto forma di energia o di pura coscienza un fascio luminoso bianco tutto esprimeva perfetta armonia suoni sottili come un sottofondo facevano da contorno le parole non basterebbero per raccontare l'atmosfera amorevole e la sensazione di pace era come far parte integrante di quel mondo meraviglioso il tempo si era come fermato e quando rientrai nel corpo fisico aprì gli occhi desiderai per un attimo di non appartenere a questo mondo dopo una simile esperienza tanto sublime ho rafforzato la convinzione di essere irresistibilmente attratta dal mondo spirituale la vita terrena sono convinta è solo una prova che lo spirito deve attraversare mediante il passaggio attraverso il corpo fisico in cui esso durante il viaggio terreno è racchiuso sento che le mie aspirazioni tendono verso quella dimensione nel mio viaggio astrale ho anche provato un forte senso di libertà perché svincolata dal corpo fluttuando come desideravo senza limiti di spazio e di tempo ho colto il senso dell'esistenza pura della vera vita libera dalle illusioni e dai fardelli della materia che ci condiziona nel pensiero e nelle azioni in quel viaggio volavo percorrendo le vie più congeniali all'anima ero la consapevolezza e la coscienza del pensiero puro legata solo a un raggio di luce ho sentito il bisogno di raccontare questo mio vissuto il mio intento è quello di far meditare su qual è la vera vita a cui siamo tutti destinati e a cui dovremmo aspirare è anche una conferma che le gioie della materia sono poco più che niente a paragone delle gioie dell'anima gioia e sofferenza quando mi accingo a ricevere l'eucarestia durante la celebrazione della messa vivo momenti di intensa e spiritualità quando il sacerdote alza l'ostia sopra il calice osservo i fedeli che si dispongono in fila per ricevere il corpo di Cristo e l'idea di partecipare a questo rito religioso mi dà una gioia immensa forse per una certa ipersensibilità nei confronti del divino arrivo a lottare con me stessa per gestire l'autocontrollo avverto l'esigenza di piangere per la gioia che mi assale per quanto riesca a dominare le mie emozioni in quegli istanti percepisco Cristo in mezzo a noi e dentro il mio cuore avverto un insieme di sentimenti tristezza gioia amore per Gesù per tutta l'umanità e il creato mi sembra di vivere un incantesimo per il prodigio che l'ostia riesce a provocare da farmi sentire trasformata provo gioia di vivere il mistero di Cristo e molta tristezza per la percezione della sofferenza dell'umanità soffro per il dolore e per le miserie del mondo soffro immedesimandomi in Cristo sofferente come se mi identificassi con Lui d'altra parte sono contenta che Lui si riveli in me anche nella sofferenza è nel dolore che riesco ad amarlo sempre più riuscendo ad avvertire Dio più vicino a me pronto a consolarmi perché Dio è tutto gioia sofferenza e amore che lega e dà senso a ogni cosa ammetto di essere sensibile un pizzico di troppo sia alla gioia che al dolore così come riesco a intravedere il paradiso contemplando un incantevole tramonto soffro altrettanto a causa di tutti i miei limiti umani specie per la scarsa resistenza al dolore fisico mi capita di contagiarmi del dolore altrui provo empatia nei confronti di persone mai viste che magari incontro per strada o di cui apprendo le vicissitudini tramite i mezzi di informazione se mi immedesimo per un attimo nella sofferenza fisica o spirituale di una persona avverto la sua angoscia come se a soffrire fosse una parte di me stessa provo compassione ed amore recitando dentro il mio cuore una preghiera signore aiuta quest'anima e falle sentire la tua presenza in certi casi anche la realtà contingente riesce a ispirarmi quando certe particolari condizioni interiori mi suggeriscono un senso di intima pace e di armonia col mondo circostante tutto si traduce in un sentimento di comunanza con Dio vivo tali esperienze soprattutto quando mi trovo a contatto con la natura l'unico sforzo che compio è liberare la mia mente da tutti i pensieri come se la svuotassi per riempirla dell'amore divino in quegli autentici attimi provo un senso di grande pace gioia anteriore amore incondizionato per tutto e per tutti la mia anima si riempie di gioia sublime e di beatitudine divina chi crede che la felicità sia legata alla ricchezza economica al successo al potere non si rende conto che anche i ricchi seppur per altri versi soffrono come i poveri se un povero si affanna e si preoccupa per cercare di realizzare più denaro il ricco si arrovella per tutelarlo e per non perderlo questa vita è tutta una pura illusione pur se passeggera è comunque una continua ed estenuante lotta sin dal momento della nascita la lotta per la sopravvivenza per la crescita per l'educazione per difendersi dalle contrarietà per non farsi sottomettere da prepotente di turno per prevenire o sconfiggere la malattia per allontanare la morte ma presto o tardi la morte arriverà per tutti ed è proprio lì che ci si trova davanti alla vera realtà perché durante il trapasso da questa all'altra vita avremo la consapevolezza che questa realtà materiale non è stata altro che un'illusione quasi un inganno efficace solo per un tempo stabilito quello destinato alla durata del nostro viaggio terreno il vero patrimonio a cui tutti dovremmo aspirare non è di natura materiale destinato a svanire bensì quello spirituale il mio desiderio massimo è quello della gioia del cuore provo costantemente questo bisogno l'unico che riesce a dare un senso all'esistenza un coro angelico una notte non potendo prender sonno mi dilungai mentalmente con le mie preghiere nel momento in cui mi trovai tra il sonno e la veglia le mie orecchie furono come investite all'improvviso da una dolce e soave melodia si trattava di una musica per niente invadente era come un sottofondo formata da una miriade di voci intonatissime accompagnate dal suono di arpe trombe e altri suoni che non saprei descrivere l'istinto fu quello di destare dal sonno mio marito chiedendogli se anche lui sentisse quella musica asserì di non percepire alcun suono pur avendo anche egli un udito perfetto come il mio rinunciai a rifargli la domanda prima che iniziasse a prendermi in giro ma per conto mio ero più che certa di ciò che arrivava ai miei timpani compresi che si trattava di un coro angelico forse perché entrata inconsapevolmente in sintonia con quella dimensione che ci è abitualmente preclusa ascoltai per più di dieci minuti quella straordinaria musica provando un senso di pace infinita e di stupore mi addormentai con quella melodia che sapeva di maestosa ninna nanna celestiale il paradiso ho avuto una certa titubanza prima di scrivere ciò che sto per raccontare temendo che molti potessero supporre di avere a che fare con una delle mie fantasie posso assicurare invece che si tratta di esperienza vissuta e se l'accaduto non riguarda la dimensione tangibile in cui tutti normalmente siamo abituati a vivere ciò non significa che si debba negarne la veridicità rispetto d'altra parte la libertà di pensiero altrui dato che il fine non è certamente quello di convincere nessuno a prendere per buono tutto ciò che dico posso comunque assicurarvi che questa esperienza ha lasciato un segno positivo e indelebile nel mio intimo avevo l'età di circa 15 anni quando una notte durante un sonno profondo ebbi l'impressione di essere presa per mano da un essere luminoso con sembianze umane sarà stato un angelo dal volto stupendo mi svegliò e mi disse preparati a intraprendere un viaggio ti mostrerò un luogo che non hai mai visto sarai felice nel vederlo Dio ti concede questa grazia per i motivi che lui conosce ti svelerà una piccola parte del mistero del paradiso ne vedrai soltanto un barlume perché non è ancora il tuo momento potrai intravedere le bellezze che si godono in questo luogo e un giorno quando Dio vorrà potrai raccontare agli altri la tua esperienza concessa solo a pochi non preoccuparti dell'opinione altrui lascia che sia soltanto la tua anima e Dio a custodire tale verità all'istante mi trovai sospesa nel vuoto ebbi una fortissima sensazione di separarmi dal mio corpo che rimaneva assopito sul mio letto dopo aver attraversato nuvoloni di colore argenteo potei osservare il cielo illuminato dalla luna man mano che salivo sempre più su accompagnata da questo essere amorevole munito di due grandi ali non avevo paura perché nel mio cuore sentivo l'amore del Signore che mi sorreggeva e mi colmava di serenità immensa dopo un po' vedi dall'alto la terra che diventava sempre più piccola fino a sparire e il mio corpo era evanescente si dirigeva verso quel luogo d'un tratto intravedi una luce color giallo oro intenso e in un baleno mi immersi in essa all'improvviso venivo avvolta dello splendore di un'atmosfera che vibrava di un amore inimmaginabile seppur ci fosse un bravo pittore persito il più grande provando a raffigurare ciò che i miei occhi videro non saprebbe certo far rivivere le emozioni e non riuscirebbe a riprodurre neanche vagamente le meraviglie che ho potuto vedere non ci sono parole o artifici in grado di rendere l'idea di ciò che ho visto c'era una miriade di angeli bambini e giovani che giocavano festosi danzavano e cantavano con sottofondi di melodie mai ascoltate prima il contesto era pieno di gioia pace e serenità simili cose in terra non si riuscirebbero neanche immaginare vedi anche esseri umani che non erano angeli anime di trapassati che gioivano era un luogo di luce in cui tutto era etereo immateriale e tutte le figure alate e non volavano da una nuvola all'altra ho intervisto anche la madonna con Gesù bambino in braccio e mi avvicinai a lei che mi rivolse lo sguardo sorridendomi ero felice di trovarmi in paradiso dove persino i colori sprigionavano una lucentezza e una purezza impensabili respiravo un'energia molto intensa e percepivo la forza pura e straordinaria di Dio che mi attirava come una calamita la mia anima era setata sempre più di Dio come se avvertissi una parte di me ignota a me stessa è ancora da scoprire ero felice di avvicinarmi sempre di più su per essere coinvolta totalmente nella forza a un tempo invisibile ma reale per la sua immensa energia colma d'amore mi sentivo appagata ma non del tutto un'altra forza mi tratteneva impedendomi di fondermi totalmente a Dio come se una voce interiore mi suggerisse vorrei ancora vedere cosa c'è oltre ancora mistero e incanto si espande oltre ancora oltre ero emozionata quasi stordita avrei fatto non so che cosa per impossessarmi per sempre di quella dimensione per fondermi completamente annientarmi dentro quella realtà volavo ancora insieme al mio angelo che avevo sempre stava sempre al mio fianco lasciavo pian piano tutti gli esseri di luce dietro me mentre l'atmosfera radiosa diventava sempre più dorata e densa mi sentivo felice di fianco a me si dirigevano verso l'alto altre anime mentre racconto ciò provo ancora la pelle d'oca dall'emozione udì la voce dell'angelo che con un modo dolce ma deciso mi invitò a seguirlo sulla via del ritorno basta per adesso non puoi conoscere dio nella sua completezza non è ancora il tuo momento appartieni ancora al mondo materiale devi tornare sulla terra sappi però che quello che i tuoi occhi hanno visto non è stato un sogno è stato realmente vissuto è il paradiso pure se ciò che hai visto è solo una piccola parte dio risiede in uno stato di consapevolezza che per adesso non puoi raggiungere hai un compito sul mondo quello di non dimenticare vivi con un piede lì e uno qui fai di tutto per costruire un ponte tra cielo e terra da quel momento provai la sensazione di ridiscendere velocemente tornando alla dimensione primitiva quella terrena la luce si faceva gradualmente meno densa e mi trovai di colpo stessa sul mio letto era già mattina quando aprì gli occhi e piansi per la nostalgia di avere perduto quella realtà da cui ero passata che mi aveva dato così tanta gioia mi era stato rivelato da dio il luogo a cui tutti gli esseri umani dovrebbero ambire dopo il viaggio su questa terra capì che si trattava di un dono ricevuto ero felice e continuavo a piangere dalla gioia confesso che questa esperienza di natura astrale è stata per me la più forte significativa e autentica che abbia potuto attraversare nella mia vita so che per amore di cristo dovrò ancora faticare vivendo su questa terra poiché come tutti ho una missione ben precisa da svolgere se così non fosse chiederei in questo stesso istante a dio di portarmi per sempre in paradiso conclusione la religione non è il fine ma il mezzo per avvicinarsi a dio la vera spiritualità risiede dentro il significato intrinseco di ogni culto religioso e si colloca al di là di ogni tipo di credo se l'arte è universale allo stesso modo il fondamento originario della verità o mistero in campo spirituale attinge anch'esso da valori irrinunciabili validi per l'umanità intera deve perciò toccare tutti a essere vista da una prospettiva che vada al di là di quella individuale in modo tale che non sia legata a condizionamenti culturali e soprattutto per non correre il rischio di assottigliarsi nella forma di proselitismo e non perdere di vista il messaggio di amore universale che dio vuole dare all'umanità intera ho dovuto con un certo sforzo mettere da parte le mie convinzioni più radicate per far spazio a tutte le altre pur se diverse ma vissute con altrettanta buona fede e sincerità facendomi piccola umile per andare oltre cercando di ascoltare rispettosamente ogni puro anelito di fede presente nell'universo seconda parte c'è nei tuoi occhi c'è tristezza una tristezza arcana nel tuo sorriso c'è amarezza un'amarezza che vela il tuo viso nel tuo volto c'è paura nel tuo cuore c'è l'amore un amore che mi avvolge nei miei occhi l'atmosfera incantata dai tuoi occhi fermi mi travolge in un istante la mia anima gioisce nel vederti sorridere dolcemente ma nei miei occhi traspare la tristezza i confini tra amore e tristezza si sfiorano alle soglie dell'anima e così la poesia mi aiuta a colmare il vuoto che mi pervade voglio vivere ancora voglio vivere ancora mille albe mille tramonti mille notti stellate e lune piene da contemplare mille sogni ancora da poter sognare mille baci da poterti dare mille emozioni da poter sentire mille parole da poterti dire e tanto amore da poter donare tu per me la tua voce mi incanta la tua presenza mi prende i tuoi gesti mi gatturano ma il tuo sguardo rimane lì fermo in uno stato mentale ingarbugliato dove la notte dei sogni mutata dal tempo tocca i cuori e li confonde amore aghi d'acciaio in ghiacci taglienti gemme vinte dalle intemperie siringhe sparse per le strade pozzanghere di sangue e tanto odio ma l'uomo il vero uomo cerca l'amore e sa dove trovarlo dove regna esiste in terra esiste ma non dentro un cimitero di parole o nelle cose vane della vita l'amore regna dove si cerca l'amore regna ovunque basta trovarlo amando cerco senza frontiere mi cerco nella mia mente mi esploro nel silenzio mi contemplo nei miei sogni mi rivelo cerco la mia anima soffrendo nonna seduta per tante ore rimani lì i tuoi occhi tranquilli posano sul libro che non è mai lo stesso i lunghi anni tuoi ti hanno reso saggia la tua allegria mi rende felice e il tuo bastone non mi rattrista sei fiera della tua vita che ti ha donato la giovinezza eterna ti vedo lì la coroncina in mano mentre assorta parli con Dio invidio la fede che tu alimenti e la pazienza è sempre con te ma l'amore è troppo grande per questo cuore amato che Dio ti ha donato io fuoco che arde vento ribelle quasi volesse spazzare via tutto anche i pensieri ed io qui a vigilare me stessa senza titolo siamo polvere d'argento inesorabilmente vacilliamo in un turbine di vento incongruenti pensieri pulsano dentro noi e noi dentro i pensieri emozioni incontrollabili vivono nei cuori senza titolo squallide figure incatenate dai loro torbidi pensieri piangono percorrono vie infinite perforando tempo e spazio fantasia e realtà e tu essere umano tendi a Dio o tenderai alla pazzia non basteranno non basteranno parole o poesie per esprimere amore non basteranno carezze e baci e non troverò gesti per esprimermi perché è troppo grande l'amore che sento per te aeroplano dalla montagna lancio un piccolo aeroplano è di carta ma sembra reale si alza leggiadro in cielo poi discende inclinato gira dolcemente in armonia col vento seguo i suoi movimenti e mi sento leggera provo gioia mi sembra di volare mi sento l'aeroplano infine cade sulla terra ed io ritorno in me con il corpo e con la mia mente sofferenza il sole splende ancora su tetri scenari rovine del tempo il cielo frammezzato da nuvole rose si oscura nell'ombra della notte gli orologi con ritmo sempre uguale accompagnano la vita di ognuno di noi è il silenzio del mistero incombe cuori desolati trafitti da una lama tagliente parlano languidi occhi di bimbi affamati forse senza speranza tace un corpo che cessa di vivere è il silenzio parla senza titolo bagliori di luce che sfavillanti giocano riflettendo come specchi frammenti d'anime risonanze perpetue danzano in confuse menti echi di ricordi sbiaditi vacillano come foglie al vento mentre il tempo inesorabile ci trascina verso la grande meta senza inganno le tue parole ristoratrici mi aprono nuovi orizzonti mentre strascichi si spengono nell'io che assetato di conoscenza percorre sentieri sconosciuti gradualmente la mia essenza si eleva verso la luce senza inganno sentimento non so se metterti al mondo figlio potenziale forse già esisti nell'eterno oceano dell'essere o nella mia dimensione mentale perché ti penso e cerco di immaginarti bimbo ancora non nato riesco già ad amarti e non ci sei ti amerei più di ogni cosa al mondo è un sentimento intenso indescrivibile non so se metterti alla luce o se lasciarti vivere solo nel pensiero a volte comincio a desiderarti per goder dei tuoi sorrisi per poter trasmetterti tutto ciò che ho di forza e di fiducia per vederti crescere ma a volte ti scaccio via col pensiero perché guardo il mondo così com'è penso che potrebbe offenderti credo che io e te siamo più felice adesso e la paura di soffrire per te bimbo mai nato non concepito che non mi dà il coraggio ancora di guardare nei tuoi innocenti occhi sognati mio dio nell'innocenza di un bimbo ti vedo nella bellezza della natura ti contemplo nelle difficoltà ti prego nel dolore dei miei fratelli ti sento nella sofferenza ti imploro nella gioia ti ringrazio nell'idea della morte mio dio ti penso a Gesù sei la stella più splendente la gioia più grande di tutte le gioie sei lo specchio dell'amore cosmico il riflesso delle virtù divine parte terza preghiera spirito spirito santo fa che tutti i miei desideri si dissolvano nel nulla diventando uno solo fondersi col tuo spirito nel momento in cui dio investe la mia essenza tutti i miei sogni sono stati già esauditi il disegno il disegno non è altro che espressione di un concetto o di un'idea concretizzata resa cioè tangibile al senso della vista ciò che l'occhio percepisce la nostra psiche traduce in un insieme di linee e di punti il disegno pur espresso attraverso il gesto della mano è comunque segno di un'attività mentale proprio perché la mente umana dà origine a un concetto astratto che viene poi tramutato col segno in immagine visiva come manifestazione dell'attività umana il disegno costituisce un'arte antichissima almeno quanto l'uomo stesso l'essere umano ha sempre avvertito l'esigenza di comunicare ed esprimere se stesso tramite il disegno e in un secondo tempo con la pittura col disegno si possono rappresentare oggetti luoghi situazioni concetti si possono descrivere raccontare narrare fatti storici si riescono a esprimere sentimenti rivelando emozioni fantasie paure il disegno può suggestionare può trasmettere messaggi di qualunque tipo e genere tutto ciò che viene costruito nella realtà viene prima ideato e disegnato se ad esempio un costruttore edile vuole edificare una casa l'architetto e l'ingegnere devono ideare e realizzare il progetto dell'edificio da costruire occorrono molti disegni di piante sezioni prospetto dell'abitazione da realizzare se uno scultore vuole creare una scultura affinché possa riuscire nel suo intento egli dovrà prima realizzare l'idea preparare un accurato disegno e scala anche riguardo al campo della moda dell'arredamento dell'oggettistica della tecnica per qualunque cosa occorre l'ideazione inevitabilmente si passa attraverso il disegno il disegno se affrontato seriamente presenta regole ben precise così come per la scrittura implica precise regole grammaticali e norme da rispettare anche per il disegno ci sono norme e regole universali stesso dicasi per la pittura ecco le nozioni basilari in cui si riassumono le regole d'oro del disegno proporzione tra le parti e l'insieme rapporto di proporzione tra le parti stesse rispetto delle angolazioni geometriche caratteristiche presenti nello schema di contorno e di collegamento tra le parti dell'insieme e l'insieme medesimo tecnica del chiaroscuro necessario per esaltare la plasticità studio delle ombre scelta della giusta fonte luminosa la luce naturale ad esempio presenta diverse varianti determinate dalla stagione dall'orario o dalle condizioni atmosferiche può conferire perciò una miriade di aspetti diversi a tutto ciò che da questa fonte viene illuminata la luce artificiale offre maggiore versatilità se ne può determinare l'angolazione o l'intensità si presta molto per lavorare in locali chiusi all'aperto in assenza di luce solare questo per quanto concerne la luce in quanto causa in quanto effetto sappiamo benissimo che i diversi materiali e la loro diversa natura superficiale determinano una gamma assortitissima di effetti riflettenti quello che se ben rappresentato in pittura conferisce a qualsiasi soggetto riprodotto le proprie caratteristiche peculiari si studierà poi la composizione quindi il rapporto che deve sussistere tra spazi vuoti e pieni si affronterà infine qualche nozione principale sulla prospettiva ciò che è fondamentale è abituarsi ad osservare in modo che ci circonda e gli oggetti che dobbiamo imparare a conoscere per poterli rappresentare graficamente per disegnare bene occorre capacità di concentrazione una posizione comoda all'azione da compiere buona luce i primi esercizi che propongo a chiunque si cimenta nella pratica del disegno a mano libera sono i seguenti esercizi per allenare la mano come nell'apprendimento della scrittura è il primo passo affinché il segno risulti sciolto come per lo studio su uno strumento musicale similmente per la grafica dobbiamo impostare e sciogliere la nostra mano solo se abitueremo a ubbidire a ogni comando della mente in armonia con il nostro carattere esprimeremo quello che si definisce stile e potremo diventare dei bravi disegnatori in secondo tempo sarà utile esercitarsi copiando immagini bidimensionali cioè foto cartoline o quadri di una certa facilità man mano che l'allievo dimostra buona padronanza del gesto si potrà passare poi alla rappresentazione di figure più elaborate e complesse il terzo passo è copiare dal vero si tratta di raffigurare tutto ciò che si vede oggetti frutta fiori persone particolari di vicoli paesaggi per poi affrontare il corpo umano e il ritratto che sono senza dubbio i temi più impegnativi per eccellenza dove è richiesta la massima precisione nel disegno specie se la raffigurazione si è intesa in chiave realista nell'arte figurativa esistono due modi di rappresentare il mondo che ci circonda uno col quale si cerca di essere più possibile coerenti alla realtà dell'oggetto osservato disegnando lentamente senza immediatezza esiste poi un altro tipo di approccio col disegno dove si cerca di essere veloci nell'osservazione e nella riproduzione concedendo più libertà al gesto questo secondo metodo è un ottimo esercizio per memorizzare meglio la realtà e rendere le linee più sicure e cariche di espressività essendo però un esercizio più difficile del precedente consiglio di affrontarlo in un secondo tempo gli oggetti da raffigurare dal vero posseggono volume proprio e perciò hanno tre dimensioni larghezza lunghezza e profondità quelli già raffigurati hanno due dimensioni si parla di immagini bidimensionali larghezza e lunghezza per cui il senso del volume è virtuale ecco perché creare l'effetto tridimensionale è più difficoltoso per il semplice motivo che bisogna tradurre le tre in due dimensioni adoperando tecnica prospettica chiaroscuro o colore per creare l'illusione ottica del volume della profondità dello spazio caratteristici della realtà in cui siamo abituati a vivere riflessioni sull'arte l'arte deve essere soggettiva o oggettiva un'opera d'arte deve essere bella ma cosa si intende per bello e ancora l'arte deve essere razionale o irrazionale tanti modi di concepire un concetto complicato da definire perché la visuale amplissima può essere ed è diversa da soggetto a soggetto correnti artistiche si inseguono da anni percorrendo il loro modo di accostarsi alla questione fattori ambientali storici sociali si inseriscono poi in questo mosaico che si complica al progredire della civiltà ecco allora che non esiste movimento artistico che possa permettersi di ignorare il passato l'arte non può definirsi assoluta deve bensì relativizzarsi ai suddetti fattori e dagli artisti stessi ognuno dei quali con una sua identità ben definita considerando allora che ogni uomo rappresenta un mondo a sé ecco che l'arte diventa emozione e sentimento in netta antitesi con un'arte intellettuale per questo troppo fine a se stessa esiste anche un'arte razionale ne sono un esempio le scuole rinascimentali l'arte greca che saltava la bellezza della forma partendo da un processo di elaborazione mentale in cui le scienze la matematica i concetti di armonia ed equilibrio si combinano ecco allora che l'arte non era firmata da individui autonomi le varie opere si presentavano da sé e nascevano in nome di un insieme di pensieri che portava a un pensiero comune dominante condiviso da una collettività che si identificava con un'identità culturale l'arte diventava allora oggettiva universale l'artista quindi non poteva definirsi tale se per un artista si considera colui che nella creazione vuole esprimere se stesso attraverso il linguaggio nuovo da lui elaborato ecco allora che quelle persone aderenti a un'idea dominante non possono definirsi tali bensì operatori artistici tuttavia un buon operatore d'arte merita rispetto perché se è vero che non porta innovazione esprime però al meglio le sue possibilità emozioni filtrate dalla sua sensibilità che appagano il fluidore al di là delle correnti artistiche da cui proviene ecco quindi che è azzardato esprimere giudizi negativi su una corrente artistica perché ciò che importa non è tanto ciò che questa vuole esprimere ma come i suoi esponenti riescano a renderla viva producendo la vibrazione dell'emozione dell'estetica risulta dunque che opere apparentemente al di fuori di ogni inquadramento intellettuale rischiano ad esprimere molta bellezza kandinsky sosteneva che un bel quadro per essere bello deve piacere anche se capovolto qui sorge un altro interrogativo chi può affermare che un'opera d'arte deve rappresentare il bello estetico tra il 1910 e il 1914 nasce infatti l'astrattismo e la sua prima espressione possiamo fare salire allo stesso kandinsky tale corrente ha una connotazione emozionale con mondria diventa mentale ispirato alle leggi scientifiche e matematiche malevic porterà l'arte figurativa verso figurativa verso l'astrazione assoluta dal suo pensiero nasce il suprematismo ovvero il mondo della non rappresentazione l'arte del passato secondo lui vive ancora oggi non per ciò che ha rappresentato con scene mitologiche immagini sacre e gesta di eroi ma per una virtù atemporale questa virtù è la pura sensibilità plastica che distingue un capolavoro da un fallimento arriva poi a chiedersi se l'arte debba essere prerogativa del mecenatismo interessato oppure debba scegliere come lui fece la strada della libertà arrivando a fare della rappresentazione di un deserto mediante quadrati bianchi l'espressione di una totale ma pregnante rarefazione stilistica forse Malevich era più filosofo che pittore un'opera d'arte non è necessariamente l'adempimento a determinate regole del disegno in quanto ad esempio l'arte informale esola del tutto dal disegno per cui avviene una comunicazione visiva attraverso il colore il termine informale significa senza forma quindi priva di linee costruttive e di disegno nel caso specifico un'opera d'arte si può definire tale se il colore riesce però a comunicare sensazioni o sentimenti se per un verso nell'opera informale spariscono alcune regole ne subentrano altre attraverso un diverso linguaggio coloristico d'altro canto le regole del colore devono essere universali pure se sostengo come tanti che un'opera d'arte è tale se riesce a suscitare emozioni in chi li guarda ribadisco dal canto mio che queste emozioni devono essere comunque positive e perciò edificanti arte e spiritualità secondo l'estetica del periodo classico il concetto di bello non comprendeva solo ciò che si vede o si sente ma anche qualità della mente umana che noi definiamo belle in senso metaforico i greci distinguevano due categorie le arti libere e le arti servili quelle libere erano più apprezzate perché non richiedevano alcuna fatica erano la musica e la poesia mentre quelle servili erano l'architettura e la scultura la pittura solo molto più tardi fu considerata un'arte libera l'idea dell'arte dei greci nei greci si riassumeva in un ideale da raggiungere in quanto ad armonia bellezza misura serenità bontà da riscontrare non solo nelle cose ma anche in sé l'estetica dell'arte classica è perciò una bellezza di tipo psicofisica cioè interiore ed esteriore comprendente forma e contenuto socrate pensa che le belle arti si distinguono dalle altre arti grazie a un carattere imitativo e figurativo parrasio riconosce che in una statua l'occhio può esprimere l'anima mentre secondo la concezione pitagorica la bellezza dipendeva dalle proporzioni coerenti ai canoni estetici per socrate scaturiva anche dall'espressione dell'anima platone si identifica con l'antica idea dei greci in quanto sostiene che il bello non è per la vista e l'udito ma include anche la saggezza la virtù gli atti eroici e le buone azioni aristotele sostiene che l'arte si possa insegnare quindi subentra la pratica ma senza il talento la pratica è pressoché inutile dato che gli artisti possono riprodurre la realtà non solo com'è ma anche più brutta deformandola o più bella idealizzandola fino a un certo punto l'imitazione e la rappresentazione della realtà per il resto diventa libera espressione secondo aristotele ci sono due tipi di artisti quelli guidati dall'abilità e quelli che operano per ispirazione l'arte purifica e soddisfa le esigenze dello spirito perché è lo spirito che si esprime mentre crea l'arte è universale in materia di arte si può essere un artigiano un artista un esperto così come l'arte intesa nel significato più esteso e quindi non solo con la visiva ma anche la musica il teatro la danza eleva lo spirito umano similmente la spiritualità si prefigge la stessa finalità infatti stimola l'essere umano ad innalzare la sua anima verso sfere più alte anche se bisogna dirlo non tutti accedono alla spiritualità attraverso l'arte pur essendo questo un mezzo semplice e immediato che ci può agevolare il cammino verso quella dimensione non tutti sanno attingere da questa risorsa in certi momenti l'individuo sente la necessità e intuisce la possibilità di potersi elevare verso quelle mete che allo stesso tempo rappresentano origine e fine ultimo a cui egli è destinato a ricongiungersi per concludere aggiungo che se è vero che non tutti posseggono una spiccata sensibilità verso l'arte è pur vero che il gusto per l'arte va anche esercitato ed affinato per apprezzare l'arte prodotta dai grandi artisti anche come espressione della personalità di ciascuno questo esercizio dà la possibilità all'essere umano di essere più completo l'uomo non è solo razionalità e istintività ma è anche fantasia sentimento sogno egli nel suo viaggio terreno sente il bisogno di creare un patrimonio artistico e culturale da tramandare ai posteri grazie a tutti grazie a tutti